Un omaggio alla canzone, alla cultura italiana dalla grande opera lirica ai cantautori nazionali, quello che Oida e Gianni Bruschi di Spazio Seme hanno regalato al pubblico del Festival Internazionale di Musica Sinfonica in Tunisia. Il tenore Alfonso Zambuto e la soprano Valentina Corò dell'Accademia del Maggio Fiorentino hanno così messo in scena il concerto italiano con il partenariato tecnico della Direzione Regionale dei Musei della Toscana, Museo e Anfiteatro di Arezzo e Fondazione Guido d'Arezzo. Uno spettacolo immenso, uno scenario meraviglioso per celebrare questo concerto voluto fortemente dal Ministero della Cultura e del Turismo della Tunisia e anche grazie alla collaborazione di Spazio Seme con Gianni Bruschi. Oida ha risposto, ha risposto con vero piacere ed è un onore per noi essere qui e rappresentare l'Italia, la sua cultura e proporre uno scambio con la cultura tunisina. Siamo stati accolti con grande simpatia e speriamo che appunto questa collaborazione possa proseguire anche nel tempo. Il concerto si è chiuso con una standing ovation degli oltre 1500 spettatori. Siamo stati accolti con grande simpatie con grande simpatia e speriamo che appunto questa collaborazione alla una, Grazie.